molto importante perché oggi ricorre il 50esimo anniversario dell'inaugurazione del circo americano in Italia il 23 novembre del 1963 ha avuto luogo il grande debutto del circo americano in Italia dopo 50 anni siamo ancora qui grazie a voi per i vostri applausi e per la tradizione che ci lega assieme grazie mille signori e benvenuti grazie